ahahah chissà ma io chissò no? è un figlio di vita boom metti la mia persona io la mia persona dite via insomma non è fatta dall'altro lato tonto è dallo stesso lato no, ma devo dire che hai fatto shhhh ma quello non è finito cos'è il movimento che movimento come va via oh dio eh oh questo è oh questo è ma dove c'è? guarda io che ho fatto no, volevi dei gusti guarda, guarda guarda, guarda metto bene, c'è un'altra cosa ma trovate dai, non te la senti un tempo vai, no, no ho provato ma da sempre la posizione no, non deve essere arrivato che mi ci è arrivato, non è mia mano feglia a ma non aspetta, vandi qua ah ma non è ma perché questo mi piace bene E allora? E vengono una vela del robot. Chi vuole parte di me? Vai di perivella! C'è un cartievo? Ma che parla stessa? C'è un cartievo? No, poverino. Come vuoi? Perfetto, troppo poverino. Ma no, vedi che boccia. Non troppo poverino, perché più boccia. Ma non lo spesso che abbiamo preso, non c'è. Dovete essere vestito così, veramente. Ma, eh, questa è la vera. Eh, come riesci? È un po' angolo, eh? Ah, va, va il culo. Sembra che fino. No, no. No, non è mai male, ma gli amici l'hanno proprio. Questa è facile, questo riesce. Questo è tutto, questo è facile. Già, se la madre non si è serizzata, è... Non si è stato, non si è stato, non si è stato. Non si è stato, non si è stato. Non si è stato, non si è stato, non si è stato. Ciao